Vale sei pronto alla challenge Ma più che altro sei pronto tu Perché perderai anche questa volta Innanzitutto dove sei andato E poi ti ricordo che ci sono dei più Bucks in palio Ho scioppato con i soldi di mia madre Tanto lei lo sa Ma come i soldi tu mandi Tu lascia stare non ti preoccupare Sappi solo che ci sono più di 5.000 Bucks in palio Tu pensa a fare quello che devi fare Ma tu sei impazzito Ma che impazzito vai tranquillo Tanto mia madre non lo scopre Non lo scopre Ma come ma avrà le notifiche Penso dei pagamenti no della carta Ma guarda mi è arrivato un pagamento Di 50 euro Ciao Mamma non so di cosa stai parlando Come non so di cosa stai parlando Ma tu sei basto Gioco sembra Fortnite non è possibile Mamma non è perché gioca a Fortnite adesso sono io A spendere 50 euro Cioè nel senso mamma non ti pare queste strane idee No 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 Lo sa Vale lo sa Vale Vale tu ne sei qualcosa No 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 Io devo andare Ciao alla prossima No 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 Io voglio sapere quanto hai speso Perché tu Tu spendi sempre i soldi Ma non è vero mamma Io non mi muovo di qua Voglio sapere quanto hai speso su Fortnite Subito Non ti consiglio di sapere quanto ho speso Cosa È meglio di no Nel senso non ho speso tanto Evitiamo di sapere quanto ho speso su Fortnite No 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 Non mi muovo di qua Io di qua non mi muovo Ok va bene Te lo dirò Mamma siamo nel mio account di Fortnite Prima di iniziare Ne sei sicura di fare quello che stai facendo Sì lo voglio sapere Quanto hai speso Ok ti dirò quanto ho speso Innanzitutto Diciamo che devo a Fortnite 22.000 V-Bucks Ma non per colpa mia Per un bug mamma Per un bug 22.000 V-Bucks Ma cosa sono sicuro? Allora diciamo che sono i soldi del gioco E corrispondono circa A 2.000 euro Quanto? Ma No 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 Ma non ti preoccupare 2.000 euro Ma non ti preoccupare Perché Non mica si devono pagare per forza Passiamo oltre Passiamo oltre Andiamo all'armadietto Qua ci sono le skin Le skin si comprano nel negozio oggetti Dove si comprano Vabbè insomma Ogni skin di questa No 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 Non ti preoccupare Ogni skin di questa Vale dei soldi Ti capito? E quanto vale? Ora te lo dico Iniziamo dalla skin di Deadpool L'ho avuta gratis mamma Gratis? Sì sì L'ho avuta gratis Ecco Questa qui invece L'ho avuta 1500 V-Bucks Quando? 15 euro 15 euro 15 euro Insomma si possono spendere Insomma Questa qui mamma E del pass Ci deve essere qualche filo Per far andare più veloce internet Ma Max Foxy Che stai facendo? Crazy Sto cercando di far andare più veloce il mio computer Ma non ce la faccio Ma dico io Stai scherzando? Puoi usare Boosteroid Boosteroid Ti consiglio di giocare al tuo gioco preferito Forra e Call of Duty Qualsiasi gioco tu vuoi A FIFA Direttamente dal tuo computer o smartphone Con una velocità super elevata E ora grazie al programma partner di Boosteroid Puoi anche guadagnarci con Boosteroid Eh guadagnarci? Ma come? Senti Io ti lascio i link in descrizione Cliccali E vai a dare un'occhiata Perché Boosteroid È la mia salvezza Per giocare a tanta velocità Ok Corro subito in descrizione Ma Devi andare in descrizione Non correre Vabbè Adio Mi è arrivato Quindi un pass Ti dà un tot di skin E insomma spendi 10 euro Quindi il pass 5 E siamo al 25 euro Già 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 Ci possiamo fermare Ci possiamo fermare Il problema viene qua mamma Che questa qui costa 2000 V-Bucks Ovvero 20 euro Ah 20 euro Però già 25 E 20 Siamo a 45 Ora ci possiamo fermare Possiamo andare Ma no mamma Perché questa qui Me l'hanno regalata i miei fan Quindi è stata gratis Capito Meno meno 20 Sì 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 Questa qui era del pass Quindi niente Questa qui era del pass Questa del pass Questa del pass Questa del pass Aspetta Tutti del pass Ma 2000 euro Come l'hai spesa allora Ma che c'è Trovava la Stare No Non ci pensare Questa è la glue Ecco Questo qua Per averla Ho comprato un telefono da 500 euro Non mi dare injuries Questa la possiamo togliere La possiamo togliere La rimborsiamo Subito Rimborso Un piccolo problema Non possiamo rimborsarla E allora vendila a qualcuno No no ma passiamo avanti Perché passiamo a questa qui Altri 20 euro Salvo O mi stai prendendo in giro Non lo so O è la verità Io non lo so Purtroppo è la verità Passiamo a John Wick Altri 20 euro Salve il mondo Altri 15 Passiamo poi a questa qua Altri 20 Altri 20 E siamo a un totale Che non lo so Passiamo ad altri 15 E poi altri 15 Questa del pass 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 Poi Pass Pass Altri 15 Altri 15 Scherzavo Regalata Altro telefono Da 200 euro Poi quella Questa qua 15 euro Questa qua Era del pass Pass 15 euro 15 euro Pass Questa qui vale Più di 1000 euro Questa qui È del pass Questa qui È del pass Questa qui Altri 15 euro Non è possibile Non è possibile Vuoi che continuo mamma Perché ci sono altri skin Sì 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 Tantissimi altri skin Ah Ai 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 Dove mi porti mamma Dove mi porti Dove mi porti Anche mamma Ai 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 Vale Lo so che sei Sì 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 Dai Ci sono Ci sono Io non ho fatto niente Tu non hai fatto niente Tu sei pure complice Vale Ascolta Facciamo un pacco No non è vero Sì che sei complice Facciamo un pacco Io ti do tutto L'accanto di crazy E tu Mi dai 1500 euro Perché non è Ma come 1500 E tu dove li prendi 1500 euro Mi scusi Ma che lo so dove li prendi Non voglio sapere niente Io ti do tutto l'account E mi dai 1500 euro Sai no 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 Con tutto rispetto Però io non posso Prendere 1500 euro Dove li prendo Poi per un account di fornit Perché lui mi ha spento Tutti i soldi E io non voglio sapere niente Io voglio i miei soldi Cosa posso farci Mamma mad Non lo so Chi ne è crazy Tu è crazy Eravate d'accordo A spendere tutti questi soldi No no Io non ho fatto niente Io non ho fatto nulla E crazy che ha fatto tutto da solo Se tu non mi dai i miei soldi Io ti butto fuori dal team Tu non vuoi parte più del nostro team Guarda Ma è colpa di crazy Io non ho fatto niente Crazy dice che è colpa tua Tu dici che è colpa sua Mettetemi d'accordo Tutte e due Datemi i soldi Aspetta Aspetta Ma come fai Se la carta di credito c'era lui Ecco Ecco Ma sei tu quello che Che inciusi di comprare E vi bacchi Si scrive Ehi mamma Che stai facendo Mamma ma perché parli con Vale Dammi qua Vale che t'ha detto mia mamma No 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 Vale 1.500 euro 1.500 euro 1.500 euro Mamma togli di 20.000 mesi Dammi la miseria No 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 Innanzitutto Io non ho speso 1.500 euro Sì E ne ho speso 2.000 No Ne ho spesi 3.000 3.000 No no Forse No 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 Ai 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 Ieei Ti ho spesi 3.000 3.000 Sì no 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 no, no no, non ti senti male no no no, tu, zi, non devi parlare ma si fai qualcosa ma, 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 ma non si senti male mi sento male non si senti male no 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 si sente male mi senti male mi senti male crazy, ma che cavolo fa ai 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 cosa che mi metto alla notte per me e per me per dormire mamma ma è per una buona causa le ho spesi per fornit mica perché insomma hai capito no non esageriamo mamma ok che mi piace pornet ma definirmi come dire ossessionato mi sembra esagerato facendo il condizionatore perché perché questo qua cresi 3.000 euro di totale in totale vita in un giorno è una data a vale sì mi dai 1.500 euro tutto l'acqua che sta dicendo ma ma voglio coprare io l'account ok allora mi dai quando 20 euro e mi dè l'account non lo vedo il mio account per me ma tu ma tu ma chi soldi che ho ma che cosa dici 500 e ti do tu ma non ne ho 500 euro non era poi questa caravella ma è una caravella alla liquidità ok ma stai tranquilla mamma allora ascolta mamma come come te li do adesso mi dai 1.500 euro mamma no mamma aspetta mamma mamma parliamone mamma no la caravella no aspetta mamma 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 allora ok ok te li do te li do io te li do io dai tu e tu me li hai dai tu tu me li prendi a me io te li prendi a te e me li dai tu oh mamma c'è la nuova arma di fornit ma che è l'arma non mi dimentico aspetta 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 oh l'abbiamo atterrato eh mamma è bellissimo e ci sono davvero i piatti per due mesi che dici no no voglio i miei soldi ho i soldi ho i soldi mamma no 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 ma dov'è quella stupida sei andato eh no no mi sento male 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 mi sento Mamma ti senti bene, mamma, 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 vale, mamma, mamma, aspetta, prendiamo dell'acqua, te ne prendiamo dell'acqua, mamma, mamma, ci sei, mamma, mamma, ti sei svegliata? 100.000 euro, 100.000 euro, perché sono sicuro che Vale te li ristrutturà, ti lascio comare, Vale, mettaci tu, Vale, tu solo mi puoi salvare.